La sera ci siamo riusciti a discutere di una minissima questione che riguarda gli interessi di tutti quanti, che riguarda la salute pubblica. Abbiamo preso in coordinazione un progetto per la riattivazione di una scarica a sulle gantinze, dove sono avvocati tutti i soldi di banica all'epoca di un anno alta, oggi con la scusa di bonificare e si pretende di poterci allocare ceneri di provenienza ovviamente sconosciuta, l'altro materiale che non dovrebbe trovare costo in discarie sottili dei soldi urbani secondo i codici di America. È la solita questione tra di che si scontra un interesse pubblico a quello delle gestioni pubblici con interesse del privato che gestisce per l'interesse aziendale. Noi dobbiamo arrivare, appunto, come esistono della proposta Svezia, alla concezione del riduto a zero del gruppo armato piano più prodotti difatti nel minimo miglioramento del possibile perché questa è una situazione che ci porterà ad affrontare sempre questioni così al limite della norma. Il riduto a zero è il futuro dell'umanità. Ci sono impegnati per arrivare a questo video dell'umanità.